Ciao a tutti, volevo fare un commento riguardo ad alcuni siti e in modo specifico il sito di previsioni ilmeteo.it che fa delle previsioni a lungo termine. Non è possibile prevedere a 15 giorni e fare delle previsioni esatte dicendo che arrivano un'ondata di gelo. Primo di tutto non è possibile, poi anche se fosse possibile non è corretto nei confronti di quelle categorie tipo il nostro settore di giardinaggio e il settore alberghiero che sono penalizzate da queste previsioni. È inammissibile che facciano delle previsioni che dicano che arrivano queste ondate di gelo quando non lo sanno con esattezza neanche loro. Quindi auspico che si faccia un'azione, che si valuti un'azione legale nei confronti di questo sito in modo che abbassino la cresta e riducano queste previsioni sensazionalistiche che non fanno portare, a loro portano dei click della pubblicità. A noi come settore del giardinaggio portano un crollo delle vendite così pure come le associazioni, gli albergatori in cui vengono disdette le prenotazioni. Ciao a tutti!